Dove non ci sono tutti i consiglieri, peraltro, credo che sia una cosa che non va per andare avanti. Sono messi tutti quelli che erano presenti, ma che direi di 10 e mezzo. Io non c'è. Le informazioni per la città, senza servizio da città, quindi chiunque mi chiede. Ma io credo, Presidente, magari al Consiglio, ci sono le commissioni, c'è il Consiglio Comunale, dove lei può esporre tutte le motivazioni che ritiene del caso. Ma una conferenza stampa, a cui lei si presta, di un gruppo di consiglieri, la trovo una cosa, diciamo, non mi permette di dire questo, di fare questa dichiarazione, dopodiché lo spirito di servizio penso che si debba adempire nelle sedi opportune. Questa non è la sede opportuna, perché io, per esempio, non sono stato invitato a questa conferenza stampa e mi guardo bene dal partecipare. Vabbè, ma come c'è questa conferenza?